La crisi mette in ginocchio il presente ma rischia di condizionare anche il nostro futuro. La lunga chiusura del paese per coronavirus sta avendo ripercussioni sull'economia nazionale e su quella familiare di milioni di persone. I numeri dicono che il 34,3% dei lavoratori dipendenti rischia di perdere il lavoro, così come il 41,5% degli autonomi e partite IVA, con le conseguenze più gravi al meridione. Secondo uno studio Svimez il costo della chiusura a persona è in media di 788 euro al mese, mentre il PIL nazionale potrebbe perdere tra gli 8 e 10 punti percentuali e ci vorranno almeno due anni per riportarlo ai livelli già di per sé non brillanti di gennaio 2020. Nel frattempo migliaia di imprese chiuderanno con conseguenze disastrose sull'occupazione. Ci saranno poi ricadute anche sulle pensioni, almeno su quelle contributive con i versamenti dal 1 gennaio 1996, la cui rivalutazione del montante versato avviene sulla base di un coefficiente calcolato ogni anno dall'Inps sull'andamento del PIL nei 5 anni precedenti. E quindi chi andrà in pensione nei prossimi anni vedrà il proprio assegno perdere dal 2 al 3% del valore rispetto all'importo se non vi fosse stata questa recessione. Un duro colpo se si pensa che molte famiglie sono costrette a vivere solo con la pensione dei genitori. Per fare fronte a questa situazione il governo potrebbe decidere allora di intervenire, bloccando per un periodo l'applicazione del tasso di variazione legato al PIL negativo.